Kick-off è il meeting svolto sia al CIAM Bari dei 27 progetti finanziati dal programma LEP Agri, Paternariato Unione Europea Africa per la ricerca e l'innovazione in materia di sicurezza alimentare, nutrizionale e agricoltura sostenibile. Comprende ben 24 organismi finanziatori di 9 paesi africani e 9 paesi europei, un partenariato che opera nell'ambito del programma Quadro dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020 e del dialogo politico di alto livello Unione Europea Africa su scienza, tecnologia e appunto innovazione. Credo che questo evento di rilevanza internazionale possa veramente costituire un momento di svolta per il nostro istituto perché la presenza qui di tanti paesi sia europei che africani testimonia che il nostro centro viene visto non solo come un ponte naturale per promuovere l'agricoltura sostenibile verso il Mediterraneo ma anche un ponte che va dal Mediterraneo verso l'Africa e verso paesi molto più lontani come quelli dell'Africa subsahariana o del Sudafrica. È naturalmente un momento di grande prestigio non solo per il nostro centro ma credo per tutta la nostra regione Puglia. Essere qui oggi a Bari è un fatto importante perché in questo progetto l'Italia non partecipa e noi siamo riusciti a portare tutti quanti in Italia quindi anche a Bari e già questo è un risultato importante. Allora questo inizio di grosso programma che coinvolge più di 300 istituzioni europee e africane ha inizio oggi da Bari. L'obiettivo è di dare questo inizio a questi 27 progetti finanziati per una somma di quasi 23 milioni di euro cofinanziati dalla Commissione Europea, dai paesi africani e dai paesi europei qui a Bari e poi sarà un momento anche di ascolto di questi progetti, di questi ricercatori per le loro priorità nel futuro per i prossimi programmi. Grazie. Grazie.